Quest'anno non ci sarà il collegio. Nessuno di voi indosserà la divisa del collegio. Io la divisa del collegio la voglio assolutamente. La vogliela però, punto. Dunque non ci sarà il collegio. Ci saranno diversi collegi. Quindi, signorine, o vi adeguate, o vi consegnate, e per questo motivo oggi siete solo voi, signorine. Che sto fatto? Cioè, molto è venuto, si è svegliato la mattina. Beh, non va bene, sappilo. Signori genitori, è venuto il momento di affidarci le vostre fanciulle. Ma però l'occhio, per favore, sono venuto come il ciclo. Io non volevo piacere, c'ho la scala. Noi quest'anno abbiamo una grande novità. Chi la vuole? Chi si comporta bene? Eh no. Come scusi? Perché mi dice no a priori? Io non posso toglierlo. Va. Buongiorno a tutte. Io sono il professor Maggi. E sarò il professor Maggi. Io sono un uomo. E sono il figlio di Antonio. Ognuna di voi dovrà cercare di convincerle altre circa la mia altezza. Scogna miglio. Ma non ho fatto niente. Stia dritto. Io così sono dal posto di luna. Stico. E scrivendo i suoi imm善. Uffa! Amore! Amore!